Insolitamente la prossima stagione sportiva comincerà il primo di settembre, date completamente diverse quest'anno con il calciomercato che comincerà ufficialmente proprio in quella data per concludersi il 5 di ottobre. Ecco che qualche problemino c'è, ci spieghiamo meglio. Dopo la proroga dei contratti fino al 31 di agosto, ufficialmente i nuovi tesserati faranno parte della loro nuova società a partire proprio dal primo di settembre. Ad esempio se l'Avellino dovesse acquistare oggi un calciatore non potrebbe farlo allenare in bianco verde fino al 31 di agosto perché ancora sotto contratto con la sua precedente squadra. Questo genera un grosso problema per i ritiri. Se l'Avellino dovesse recarsi a Sturno dopo Ferragosto dovrebbe allenarsi con la stessa squadra della passata stagione perché appunto sono tutti ancora sotto contratto compresi i prestiti. Sarebbe una situazione paradossale, quindi per fare chiarezza sulla vicenda abbiamo intervistato l'Avvocato Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che ha dichiarato E' vero che sarebbe una situazione davvero strana e poco sostenibile ma stiamo già lavorando con la FGC per emettere un provvedimento che possa tutelare i calciatori e risolvere così il problema. A breve risolveremo questa vicenda. Insomma, come si immaginava, tutto sarà semplificato senza dover fare i conti con un'altra strana parentesi di questo nostro strano calcio.